Corsa per i 4 anni, 11 soggetti al via dopo il ritiro del numero 10, Stornello getta al completo la prima fila con 7 concorrenti che sono step by step Mario Minopoli Junior, Show di Casei, Mario Manzone, Sterling, Gianpaolo Minucci, Sessoforte Griff, Ghetano Di Nardo, Shrek Lasolo, Umberto Di Vincenzo, Serpico Trebbe, Roberto Vecchione, Speedmack, Romeo Gallucci. In seconda fila invece Schubertor, Warner Martellini, Sparta Custanza e Davide Di Stefano, Sodio degli Olivi, Alessandro Lezzo e Sanzone Scò, Paolo Carta. Parte con prudenza come di consueto Serpico Trebbe. Al centro dello schieramento i più veloci che sono Sterling, Sessoforte Griff e più a largo Speedmack. L'errore di Speedmack, la cellotta Sterling e Sessoforte Griff davanti a Step by Step, Shrek da solo all'esterno, Schubertor il più veloce dalla seconda fila che costringe a largo. Show di Casei, poi Spartacus Sanz, ancora Sodio degli Olivi, Sansone Scò e in coda Serpico Trebbe. Sterling ha respinto Sessoforte Griff che è stato costretto ad accodarsi e precede Step by Step, poi Shrek Lasola ripiegato in quarta posizione. Ora Sterling cerca di ridurre l'andatura. Ne approfitta Spartacus Sanz per avanzare a centro pista, aggirando Show di Casei, ma subendo l'anticipo di Sessoforte Griff che si ripropone su Sterling. In curva Sessoforte Griff e Spartacus Sanz che vanno su Sterling con Sessoforte Griff che tende a passare sulla battistrada dopo metà gara. Però in 59.6 si viaggia sul piede dell'1.14.5 con Sessoforte Griff al comando con all'esterno Spartacus Sanz spostato Step by Step che affianca Sterling. Poi c'è ancora Shrek Lasola con all'interno Schubertor. Poi a largo di tutti muove ora Serpico Trebb che cerca di rifare il gruppo e giunge ora al Salchi di Step by Step che è sempre in scia Spartacus Sanz. Ma Serpico Trebb sembra più incisivo, aggira Step by Step, ha spostato in terza ruota anche Shrek Lasola. Siamo all'ingresso e all'interno Sessoforte Griff, Spartacus Sanz, Serpico Trebb a ventaglio davanti a Step by Step. Poi Sterling e quindi tutti gli altri con Serpico Trebb all'esterno che insiste insieme a Spartacus Sanz. Sessoforte Griff che prova a difendersi ma Serpico Trebb è passato a centropista su Sessoforte Griff. Poi Spartacus Sanz, poi Shodikasei che finisce forte superando Step by Step. Nel finale Serpico Trebb che va a vincere chiaramente con merito su un ottimo Sessoforte Griff. Finisce forte, Shodikasei dovrebbe essere terzo mentre Spartacus Sanz potrebbe essere stato bucato all'interno per il quarto posto da Sodio degli Ulivi che era fra l'altro forse l'estremo outsider del campo e potrebbe essere entrato nella quaterna dei migliori. Rivediamo la vittoria di Serpico Trebb. Il training di Olga Lerat, interpretazione perfetta di Roberto Vecchione. Il figlio di Napoleon vince con chiaro margine su un ottimo Sessoforte Griff, animatore di tutta la corsa. Poi Shodikasei, poi vedete che Spartacus Sanz proprio sul palo viene apparigliato all'interno da Sodio degli Ulivi.